Ed eccoci qua ragazzi, allora, io sono sempre in ritardo con i format che vanno di moda, e infatti eccoci qua per un nuovo uvufufu, però, attenzione, con un senso logico. Qual è il senso, cioè qual è il motivo per cui sto facendo questo video? Tempo fa feci delle tier list su questo canale, ovviamente a tema One Piece, sulle saghe, sui villain, cose del genere, e sono passati due anni tipo da quelle tier list. Alcuni personaggi sono rivisti, sono stati un po' modificati, sarebbero da rifare effettivamente secondo me quelle tier list, e ancora oggi ricevo dei commenti sotto quei video lì. Quindi mi son detto, ok, quelli sono dei format da rifare, però la tier list ormai l'abbiamo già fatta, qual è la tier list di nuova generazione? Ed è appunto questo format qua, questo format che va a creare un torneo per quanto riguarda questi argomenti. Oggi lo facciamo sulle saghe, è un po' un esperimento in realtà, perché non ho mai fatto un video del genere, però spero che possa piacere. Mettere in confronto due cose spesso non è mai ottimale, però da questo video dovrebbe uscire quella che dovrebbe essere appunto la migliore saga di One Piece, almeno per il sottoscritto, ok ragazzi? Poi ovviamente, come sempre, lasciamo liberi i commenti per le discussioni, e ovviamente commentate facendomi sapere la vostra. Prima di cominciare vi ricordo al volo, in descrizione, Redoc per i vostri poster personalizzabili, vi basta inserire il vostro nome, il numero di taglia, e in più ricordatevi che avete a disposizione il codice sconto YouTube per avere il 10% di sconto, potete anche scegliere di avere il poster personalizzato in stile anime, ripeto, link in descrizione per Redoc, ma dovreste trovare anche lo shop sotto, e io direi che possiamo cominciare, quindi spostiamoci sulla schermata. Ok, eccoci qua, allora, iniziamo subito, iniziamo proprio alla stragrande, perché abbiamo già Giaia contro Impel Down. Bene, allora, questa è già una sfida secondo me, in realtà abbastanza facile, però piccola cosa che vorrei dire. Allora, se stessimo parlando di tavole, questa qua, quella di Giaia, è la mia tavola preferita di One Piece, ce lo dico subito senza fare l'uvufufu delle tavole. Questa è la mia tavola preferita, c'è, tra l'altro è qua appesa in ufficio, perché? Perché io amo le tavole in cui l'autore ti tira metaforicamente una testata, cioè le tavole di impatto, perché? Perché questa tavola è incredibile per me, perché ha pochissimi elementi. C'ha il don dietro, c'ha le due scritte qua, e poi c'ha quattro personaggi, sfondo bianco. Se voi andate a vedere i volumi vecchi di One Piece, quindi anche i capitoli iniziali, Oda utilizza tanto lo spazio vuoto. Adesso invece, se noi andiamo a vedere il One Piece di adesso rispetto al One Piece di prima, siamo strapieni di roba nelle varie tavole, però in realtà lasciare il bianco nelle tavole non è una roba proprio che secondo me serve perché dà ancora più risalto ai pochi elementi che ci sono. Quindi questi personaggi qua, nonostante siano piccolissimi, nonostante siano in una scenetta anche breve, in realtà hanno un grandissimo risalto. E perché questa per me è una capocciata? Perché questa frase, questo concetto, è tutto quello che c'è di bello in One Piece, ok? Per me One Piece è rappresentato da due cose. Una più importante dell'altra. La più importante è appunto il discorso legato ai sogni. Quindi i sogni, tutto quello che c'è dietro a questo concetto, e sta tavola lo rappresenta al 100%. E poi la ciurma. Lo dico anche perché le saghe che vanno dopo l'arcipelago di Sabaudi in poi, per me hanno questo grande difetto. Non c'è la ciurma, quindi, anche se noi abbiamo tantissime cose molto fighe, quando non c'è la ciurma, per me è quello, non dico che non è One Piece, ma pecca veramente di, appunto, di quella grande mancanza, grave mancanza. Però in questo caso qui, almeno per il momento, Impel Down è più una saga che Giaia. Perché per me Impel Down è una bellissima saga, anzi è una saga che ancora adesso mi ricordo, ogni tanto mi sono recuperato delle cose, anche recentemente perché veramente ho un bellissimo ricordo. Perché adoro l'ambientazione, adoro i concetti espressi dentro, che riguardano sempre l'ambientazione, anche questa cosa dell'intrufolarsi in una prigione, quindi anche tutto il concetto stesso. Giaia, invece, come saga, cade un po' più male rispetto a Impel Down. Quindi come saga, sicuramente Impel Down va avanti, ma senza ombra di dubbio. E, allora, Punk Hazard, Fishman Island. Allora, qui abbiamo due saghe, l'una tra l'altro vicino all'altra, perché abbiamo prima Fishman Island e poi subito dopo Punk Hazard. A Punk Hazard, secondo me, secondo me Punk Hazard è la prima vera saga bella del post-timeskip. E visto che la seconda è la prima e Fishman Island vi fa anche capire quello che ne penso. Però non lasciamo questa saga così e basta. Vi spiego anche quali sono per me i problemi di sta saga. La saga è bella perché rivedi Mugiwara insieme e quindi quando... No, il discorso che facevo prima, no? A me piace quando c'è la ciurma, tutti insieme. A me piacciono le piccole interazioni della ciurma, no? Quindi Chopper che ha affezionato sia Robin che Zoro, per dire no? A me piacciono quelle robe lì. E quindi noi li rivediamo insieme tanta roba. Però... Cioè, il villain di sta saga per me è il peggior villain togliendo Foxy, togliendo comunque i personaggi meme della storia di One Piece o di Jones. Per me è un villain inaccettabile che viene sconfitto neanche dal protagonista, viene sconfitto da Zoro in acqua ed è un uomo pesce. Poi capisco che sta saga serve appunto per farci vedere quanto sofforti Mugiwara e quindi aveva senso anche che Zoro vincesse. però... ragazzi... Cioè... Ah, poi tra l'altro, no? Oda qua voleva palesemente fare un bel... un gran bel parallelismo con... 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 l'isola di... anzi, Arlong Park e in generale con tutto il mare orientale. E quindi Odi Jones rappresenta un po' Arlong, però non è che lo richiama. Odi Jones è in Arlong 2.0, ma se ora vi chiedo a voi, vi ricordate di più? Odi Jones o Arlong? È ovvio che voi mi dite adesso Arlong, ma è ovvio perché è molto meglio. Altri personaggi che hanno questi parallelismi, che sono sicuramente venuti meglio a Oda, sono Croco, Dalli e Doflamingo. Se noi prendiamo le due saghe, sono identiche. Però Doflamingo è un personaggio diverso da Crocodile e ancora oggi, te lo ricordi, ancora oggi è iconico. Odi Jones? No, Odi Jones veramente distrugge per me sta saga, nonostante poi, per carità, Joy Boy viene citato per la prima volta e c'è questa scena bellissima di Jimbo, eccetera. Però deve passare Punk Hazard più che per meriti di Punk Hazard per demeriti di Fishman Island e quindi Punk Hazard va assolutamente avanti. Poi magari di Punk Hazard ne parleremo più avanti perché tanto la rivediamo. Allora, qua per me ci sono due pesi massimi. Qua per me è da semifinale sarebbe questa questa accoppiata. Allora, l'Arcipelago Sabaudi è Water 7 slash Any's Lobby quindi contiamo sia Water 7 che Any's Lobby insieme, giustamente. Allora, l'Arcipelago Sabaudi io la trovo una saga bellissima, geniale. ci sono tre cose che a me piacciono molto in questa saga che sono numero uno tutto il discorso che c'è con gli schiavi e con questo grandissimo pugno che rimane per me nei top 5 momenti di One Piece assolutamente. numero due la Worst Generation io adoro la Worst Generation soprattutto quando ci viene presentata lì perché a me piace quando il nostro quando il protagonista di una storia inizia a fare carriera ma la storia tu anzi tutto l'universo non gira intorno a lui poi per carità quando si va avanti con la storia è giusto che l'universo inizi a girare intorno al protagonista però adesso l'Arcipelago Sabaudi rappresenta soprattutto come punto in cui sono arrivati Mugiwara a meno della metà della storia di One Piece totale e perché per me la Worst Generation è un simbolo di questa cosa cioè del fatto che Luffy non era al centro del mondo in quel momento lì perché arriviamo e scopriamo tanti altri capitani pirati che hanno una taglia simile a quella di Luffy e che hanno fatto il devasto in altre rotte però parallele ai Mugiwara nello stesso periodo tra cui uno tra tutti Kid che se non erro aveva pure una taglia più alta di Luffy all'epoca quindi è una cosa che a me fa impazzire perché per me questa cosa dà ancora più profondità al mondo poi l'altra cosa che secondo me è estremamente coraggiosa è comunque la divisione della ciurma perché? perché tu hai questa ciurma incredibile che ti sei portato dietro su cui si basa tra l'altro la tua opera e che cosa fai? dividi tutti? cioè coraggiosissima come scelta ci sono poche altre storie soprattutto se contiamo le storie pop che sono all'interno di alcune regole di mercato su cui comunque bisogna ragionare che avrebbero mai fatto questa scelta ok? quindi l'arcipelago sabaudi per me è una super saga water 7 slash any's lobby dall'altra parte si porta dietro delle cose ancora più interessanti anche perché c'è da dire che questo voglio vivere di Robin arriva non solo da tutta la costruzione di water 7 ma arriva dalla basta perché già dalla basta noi conosciamo Robin e iniziamo già a vedere che comunque lei è nel posto sbagliato anche nella Baroque Works e quindi l'amore verso questo personaggio cresce sempre di più in più anche qui se ne contiamo water 7 io ci devo mettere per forza molte altre cose ci devo mettere la disobbedienza di Usopp perché vuole tenere la Mary e quindi il combattimento tra i due la classica scena di Zoro che tutti si ricordano che vabbè per carità di Dio poi ci abbiamo anche il funerale della Mary tutta la parte a water 7 e i Mugiwara che arrivano tutti insieme a Annie's Lobby a combattere in singolo con quegli scontri lì e poi i Gear che sono una genialità da shonen per me quindi quindi questa è combattutissima ma di corto muso per me vince water 7 slash Annie's Lobby e per me sì per me sì ragazzi per me sì ahhh che accoppiata questa un po' strana devo dire sì Egghead e Arlong Park allora partiamo da Egghead Egghead ultima saga appena vista sicuramente una saga allora se noi stiamo parlando di se questo fosse un video delle saghe più importanti allora non ci penserei due volte cioè a Egghead noi abbiamo visto i governosi trasformarsi abbiamo avuto informazioni su Joy Boy poi abbiamo visto Vegapunk e come si è diviso i pirati di Barba Nera abbiamo visto Im abbiamo conosciuto il suo vero nome Im Nerona abbiamo visto che anche lui si trasforma c'è sacco di roba però però per me One Piece è al 90% sentimento spesso e volentieri a One Piece viene anche attaccato sì viene anche attaccato perché a volte è troppo lungo io credo che spesso e volentieri One Piece sia allungato anche perché tu devi avere il tempo di affezionarti a certi personaggi essendo che ogni saga alla fine si ricomincia da zero praticamente nella maggior parte delle saghe ogni volta che noi arriviamo in una nuova isola i Mugiwara conoscono l'isola quindi c'è la parte esplorativa poi si affezionano i vari personaggi e quando si va a fare il culo al villain di turno quel combattimento è molto più sentito perché tu stai vendicando stai aiutando le persone a cui ti sei affezionato durante la saga questo vale per i Mugiwara ma vale anche per i lettori ecco io credo anche leggendo un po' alcune cose che stanno uscendo ultimamente con la saga di Elbaf che in molti si sono disabituati a questa cosa perché Egged li ha fatti disabituare Egged è completamente diverso da tutto questo concetto qua ma questo concetto è One Piece perché dico questo perché quando i Mugiwara arrivano su Egged non c'è la classica storyline di questo di la popolazione in pericolo che vive male con i Mugiwara che arrivano salvano sono eroici sotto quel punto di vista no il capo dell'isola e Vegapunk devono scappare è una struttura completamente diversa però una grande pecca è il non aver introdotto personaggi secondari a cui affezionarsi i personaggi che ci sono ovunque in ogni saga esempio no noi ad Egged vediamo che ci sono centinaia decine e decine di aiutanti di Vegapunk perché non ne conosciamo nessuno esempio magari ci affezioniamo a uno di loro a due di loro e nel momento in cui vediamo la marina che sta per distruggere la nave degli aiutanti di Vegapunk che poi viene salvata dai giganti se noi fossimo più affezionati a quelle persone allora quella sarebbe stata una scena molto più di pathos ok invece ad Egged quella roba manca informazioni su informazioni su informazioni per carità di Dio però io se voglio leggere One Piece lo faccio anche per le emozioni che mi vuole dare altrimenti mi leggevo le vivere card quindi quell'elenco di informazioni che tirano fuori ogni tanto no e mi rifaccio anche a una cosa che ho detto nel video recap di Egged Egged è più importante che bella ok quindi questi 5 minuti di discorso per dire che scelgo Arlon Park anche perché Arlon Park per me è One Piece per me Arlon Park è la rappresentazione in toto di quello che per me è One Piece ma ne parleremo più avanti perché tanto Arlon Park la rivediamo adesso abbiamo Whiskey Peak e Little Garden beh due saghe anche qui molto vicine una dopo l'altra esattamente come Pan Hazard e Fishman Island che dire qua sono abbastanza simili perché le cose che mi piacciono di entrambe le saghe sono quei discorsi legati a alla Baroque Wars per intenderci no quindi al fatto che noi vediamo la Baroque Wars che iniziamo a conoscerla meglio soprattutto a Whiskey Peak però c'è da dire che per tutta la parte di esplorazione per i giganti che ci parlano di Elbaf per la prima volta e poi Mugiwara che vengono ingannati e che abbiamo anche quella parte di storyline legata a Sanji che inganna Mr. Zero quindi Crocodile ve la ricordate no? secondo me questa è più saga rispetto a questa Whiskey Peak in confronto a Little Garden è veramente un'isola di passaggio che poi ha anche lo scontro tra Luffy e Zoro va bene però però Little Garden è memorabile Little Garden è avventura vera anche Little Garden rappresenta One Piece sotto molti punti di vista quindi per me Little Garden va avanti a mani basse oh Rocktown e Skypiea allora anche qui secondo me il discorso che mi ha fatto prima qua è ancora più più incisivo cioè una è un'isola bella da cui passano i Mugiwara che ci rappresenta anche delle cose interessantissime che ci portiamo dietro ancora oggi l'altra è una saga ok e mi sto riferendo ovviamente per quanto riguarda la saga a Skypiea mentre invece Rocktown è per carità qualcosa di memorabile perché rivediamo Buggy che è in trappola Rufi pronto a giustiziarlo vediamo per la viravolta Dragon conosciamo Smoker si parla di Roger perfetto però però per me Rocktown soprattutto se calcoliamo il manga sono veramente credo due tre capitoli una roba del genere non è neanche una saga Skypiea lo è alla grande è un discorso molto simile effettivamente a quello che abbiamo fatto tra Whiskey Peak e Little Garden su Skypiea ci sarebbe molto da dire ma ripeto come prima ne parliamo dopo perché tanto Skypiea 100% la rivediamo in questo torneo abbiamo poi Long Ring Long Run che vince contro il vuoto perché per far stare tutte le saghe ecco infatti ci sono delle posizioni vuote e le abbiamo tutte di fila adesso sono passate tutte delle saghe cortissime e arriviamo ah ragazzi allora qua il mio acchi dell'osservazione dei commenti che mi scannano si è attivato perché io so benissimo chi farò passare allora allora due cose da dire una l'ho già detta anzi due l'ho già dette io mi sono innamorato di One Piece cioè quindi io ho donato il mio cuore quindi proprio a Sasagio a One Piece nel in un momento preciso io avevo 12 anni chiaramente io ho iniziato a guardare il cartone animato ed era non era neanche su Italia 1 era su Boeing non so se qualcuno di voi se lo ricorda e la parte che mi ha fatto innamorare di One Piece che è passato ad essere uno show come tanti a quello che è diventato il mio amore narrativo da lì in poi è la parte che va dal Barati a Arlong Park ok soprattutto la parte Arlong Park ok quindi mettiamo questo in chiaro poi c'è da dire anche un'altra cosa che io come ho detto prima amo alla follia quando c'è la ciurma quando ci sono le interazioni tra loro quando uno di loro prende prende più il sopravvento sul controllo magari delle decisioni quando vediamo gli scontri loro e quindi le saghe che vanno da l'arcipelago Sabaudi in poi fino a Fishman Island peccano di quella roba lì c'è anche da dire che nonostante tutto Marineford ragazzi è la saga definitiva almeno per il Teppere Timeskip perché Marineford è al 100% la saga perno di One Piece Oda disse che più o meno a Marineford eravamo al 50% della storia più da lì in poi poi si vede anche tutta la parte si inizia la parte post Timeskip quindi Marineford è incredibilmente importante ci sono delle scene importantissime a Marineford si fa i conti con tutto quello che Oda ha messo sul piatto da decine di anni in realtà non 20 anni perché insomma lì era un po' meno ed è un po' il discorso che abbiamo fatto prima per Any's Lobby tu la senti molto bene perché sono cose che ti porti dietro dalla basta per quanto riguarda Marineford tu le senti molto perché sono cose che porti avanti dall'inizio compresa anche la figura di Mioc quindi per me questo scontro sarebbe da semifinale proprio nettamente però se io contassi la parte di amore totale che io per One Piece soprattutto la parte iniziale e molti di voi lo sanno perché ne abbiamo parlato sia nelle tier list ma anche quando c'è stato il live action di One Piece allora io dovrei parlare della parte di Barati con Arlong Park perché se io conto solo il Barati contro Marineford io devo far passare Marineford ragazzi se avessi contato anche Arlong Park probabilmente non sarebbe andata così ma questo forse è lo scontro più difficile che ho visto finora ma senza ombra di dubbio allora Drum Island e Wano allora anche qui no non voglio sembrare anzi no non dico niente facciamo un discorso più articolato per quanto riguarda questa discussione per me Drum Island è una saga bellissima una saga che rappresenta One Piece in tutto e per tutto quindi col classico villain cattivo che soggioga una parte di popolazione con un concetto chiave in quel caso la medicina questa è una cosa che si è un po' persa quindi il concetto chiave nelle saghe nel caso del Barati di cui abbiamo parlato era il cibo per esempio e Drum Island la medicina tra l'altro concetti che poi si portano dietro anche coloro che entrano in ciurma in quelle saghe quindi Drum Island rappresenta One Piece c'è uno dei flashback più belli della storia per me di questo manga che è ovviamente il flashback chopper e Netflix Netflix se stai ascoltando se sbagli quel flashback lì è finito cioè non ha più senso fare live action quindi quindi Drum Island è una saga incredibile per me lo è anche Uano per me lo è anche Uano Uano secondo me è una saga che è stata over criticata perché è molto lunga Uano è estremamente lunga però comunque è innegabile che quella lunghezza lì ci serve anche un po' per empatizzare con la popolazione di Uano ci sono tanti personaggi secondari di Uano che noi conosciamo che è un po' il discorso inverso che abbiamo fatto per Egghead quindi quella parte di Egghead per esempio non ci sarà Uano sì molto lunga in più prima ho calcolato un flashback c'è un altro flashback che è incredibile secondo me sottorotatissimo che è il flashback di Oden che poi sarebbe il flashback di Roger visto da Oden visto con gli occhi di Oden ed è un flashback bellissimo anche quello ha molto pathos magari meno di quello di Drum per carità perché comunque la scena ragazzi la scena di Oden che si fa bollire per me è incredibile è una scena bellissima quel flashback lì poi tra l'altro a livello di pubblicazione mi pare che duri sei mesi una roba del genere quindi Uano è molto lungo anche per quello poi abbiamo tutta la parte legata a Onigashima e io dico la verità sono se questo video è anche legato alle mie emozioni perché come ho detto prima One Piece è al 90% emozioni l'ho detto l'ho detto anche per giustificare delle scelte fatte prima soprattutto per le saghe più vecchie io sono molto legato alle saghe di cui ho iniziato a parlare in questo canale perché comunque ho vissuto One Piece per la prima volta con qualcun altro oltre che me stesso quindi io sono molto più legato a Uano Uano è estremamente importante ma oltre a essere importante per me è una saga veramente godibile lunghissima certo però comunque è una saga che ragazzi va a concludere un arco narrativo lunghissimo sentito che ha messo tante cose sul piatto che le presenta tutte di colpo a Onigashima non è un caso che ci siano sia Kaido che Big Mom in questa saga e per tutto l'arco narrativo parte da Pankhazard e arriva fino lì e in più questa saga cambia One Piece drasticamente credo anche che questa scelta la scelta di queste due saghe io non parlo solo per me ma parlo anche per voi dipenda moltissimo da quello che pensate della trasformazione in Nika io la trasformazione in Nika la adoro inizialmente assolutamente no perché quando la vedi dici ok One Piece è cambiato poi però inizia a ragionare meglio e dici è cambiato ma non è vero ma non è cambiato è cambiato ma è sempre la stessa cosa e quindi anche Uano rappresenta molto One Piece un One Piece più moderno con cose più esagerate assolutamente sì però io mi sento di dare il punto il punto di far passare Uano in questo caso ah eh sì lo so lo so ragazzi lo so ragazzi allora Romance Dawn e Alabasta qua si è toltaun vabbè così è un errore mi sa comunque Romance Dawn Romance Dawn credo che intenda proprio dall'inizio quindi dalla primissima pagina fino a tutto quello che abbiamo visto di Kobe e Zoro fino ad Orange Town ipotizzo in quel caso beh ok non la considero neanche una grande saga Alabasta secondo me Alabasta delinea per il fandom che cos'è One Piece cioè Alabasta rappresenta quello che è One Piece il discorso che abbiamo fatto prima per Uano e per Any's Lobby secondo me calza molto molto bene anche per questa saga qui diciamo che le saghe che concludono degli archi narrativi sono avvantaggiate sotto questo punto di vista qui perché la senti molto di più perché ci sono delle cose che ti porti avanti dai promotori gemelli da Little Garden da Drum e via dicendo quindi tutti se la ricordano tutti la amano anche io la adoro per me questa saga rappresenta One Piece insieme a poche altre mentre questa è un'introduzione per carità di Dio quindi se devo calcolare le saghe io scelgo Alabasta e qua mi sa che siamo tutti d'accordo forse forse anche qua saremmo tutti d'accordo perché l'isola degli strani animali non è neanche una saga cioè è un'isola in cui si passa un capitolo fine insomma è carino perché parli di quel concetto del tesoro per Luffy il suo tesoro e il suo cappello che è una roba che soprattutto fino fino in realtà proprio a quell'isola lì ma andando anche un po' avanti forse già Cyroop già sta roba non c'è più però è una roba che è molto importante per la parte iniziale di One Piece quindi tanta roba come concetto però non è una saga questa Orange Town già lo è poi Orange Town non la metterei nelle top 5 mai però chiaramente deve passare contro l'isola degli strani animali proprio tranquillamente anche qui siamo tutti d'accordo? spero di sì Revers Mountain è Dressrosa allora per me Dressrosa ha tantissimi difetti ma proprio tanti però è innegabile che ci siano delle cose che io amo di quella saga lì no? a volte una cosa che leggo che viene criticata al One Piece moderno è che spiega troppo ed a volte è vero a volte ci sono dei capitoli di Haggad che sono solo balloons cioè sono solo scritte sembran saggio io invece vorrei uno shonen quindi vorrei anche del combattimento però in realtà questa roba non è che One Piece la sta avendo adesso perché Oda è impazzito perché vuole spiegare le cose sta roba c'è sempre stata ecco le Revers Mountain per carità di Dio però alla fine tutte le ricordi principalmente per la Boon e anche perché c'è questo grandissimo spiegone ed effettivamente nelle tavole più famose loro hanno messo le tavole più importanti mi sa per ogni saga cosa hanno messo lo spiegone della Grand Line perché la Revers Mountain è quello per quanto riguarda Dressrosa per me ha dei difetti assolutamente ne parleremo ma anche dei lati positivi giganteschi giganteschi da cui non si scappa e per me questi lati positivi sono rappresentati da queste due vignette qua ma ripeto ne parleremo anche perché Dressrosa la vedremo più avanti perché passa questo turno anche qui facilmente allora allora io sono dell'idea che qui ci sia questo questo non è uno scontro sapete perché per me poi giustificherò il tutto tranquilli per me qua in questo schermo c'è la saga peggiore di One Piece e una che non è una saga quindi ovviamente io devo scegliere Whole Cake Island perché la saga post war che c'ha un flashback cacato tra l'altro con Sabo e io non sono un grande fan di Sabo perché secondo me Oda ha scelto di far morire Ace doveva tenersi a quella strada lì e non dire ok ma ce n'era un altro ce n'era un altro che poi tra l'altro poi prende pure il Mera Mera quindi uguale ad Ace quindi già già fai morire poche persone ma pure Sabo mi deve introdurre non sono mai stato un gran fan di Sabo ora l'ho digerito perché mi è piaciuta la sua parte di flashback ad Egg quindi un po' l'ho digerito diciamo così ma non sono mai stato così affezionato al personaggio neanche lontanamente però questa non è una saga non è una vera saga questa sì e ne parleremo ne parleremo dopo di Olkek Island mi voglio prendere 5 minuti ok allora l'ultimo del primo round l'ultimo scontro del primo round è tra Thriller Bark e il villaggio di Syrup in cui abbiamo conosciuto Usopp allora il villaggio di Syrup è una saga veramente molto semplice proprio classica saga iniziale io non sono non ho mai stato un fan di Kuro lo dico non sono mai stato un grande fan di Kuro come Villain dall'altra parte Thriller Bark è una saga secondo me molto 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 bella tra l'altro Thriller Bark è già più cioè Oda è già più esperto nello scrivere e nel rappresentare le saghe se avete notato ogni saga c'ha un tema no? quando eravamo nel mare orientale questi temi non c'erano magari c'era appunto come dicevamo prima nel barati col cibo e via dicendo quando dico il tema io parlo proprio di immaginario che Oda vuole rappresentare no? perché One Piece è come se fosse tanti manga con lo stesso lo stessa con la stessa linea la stessa linea editoriale sotto certi punti di vista ma con delle ambientazioni e dei concetti diversi vedi adesso Elbaf sembra più un manga di vichinghi per l'ambientazione di giganti Egg invece fantascientifico Wano una storia più giapponese Thriller Bark invece c'ha questa roba horror a me piace già questa ambientazione ho adorato l'ambientazione ho adorato una parte due parti anzi ovvero i Mugiwara che combattono insieme contro Odr e per me purtroppo vedere i Mugiwara combattere insieme è una cosa che che non vedremo più mi sa perché adesso abbiamo dei personaggi che sono Jinbe, Sanji e Zoro che sono troppo più forti rispetto agli altri e quindi è difficile vedere uno scontro team up di tutti i Mugiwara insieme contro uno forse ci sarà guarda contro him anche se la vedo difficile un po' mi fa sorridere pensare a un Usop che usa un Pop Green contro him ma vabbè però è una roba che io amo sempre collegata a quel discorso lì della ciurma e quindi Thriller Bark no Thriller Bark vince a mani basse ah l'altra cosa che amo di Thriller Bark è Kuma e quindi l'apparizione di Kuma a fine saga questa scena qui in particolare c'è una cosa che non ho amato di Thriller Bark ma ne parleremo dopo perché Thriller Bark va avanti e quindi arriviamo arriviamo al secondo round questa è una sfida per me ai limiti del ridicolo perché per me queste sfide qua cioè queste due saghe non sono da top 10 vi dico la verità per Long Ring Long Land credo che comunque si intenda anche la parte dedicata a Foxy anzi chiaramente si intende anche la parte dedicata a Foxy mentre invece Amazon Leary comunque quando Luffy arriva Amazon Leary la conoscete insomma allora c'è da dire che Long Ring Long Land se contiamo la parte di Foxy io la detesto io la detesto non perché è noiosa ma perché non lo so non faccio finta di dimenticarmela spesso però c'è una cosa che mi piace di Long Ring Long Land che è questa parte qua questa parte qua che poi viene rappresentata un po' da paraculo rappresentare l'unica parte incredibile perché per me è molto bella quella parte perché fino a quel punto lì i Marines sono sempre stati un po' i scemi del villaggio poi per carità abbiamo visto Morgans Manodasha Spaventoso Smoker molti di voi diranno sì peccato che Smoker è sempre quello lì che insegue e non raggiunge mai l'obiettivo quindi insomma abbiamo visto parecchie volte ma poi mi sembra uno che non raggiunge mai il suo obiettivo mi sembra uno comunque che tu sei benissimo che uno come Smoker magari può rompere le scatole ma non catturerà mai Mugiwara lo sai benissimo quando sei uno spettatore quando leggi quando però poi vedi questo tizio qua riconosci che sia oggettivamente invincibile cioè Kusan qua per tutta la ciurma è oggettivamente invincibile poi addirittura è uno di tre è uno di tre ammiragli quindi vuol dire che ce ne sono altri due come lui e quindi qua per la prima volta capisci che la marina non è da sottovalutare e anzi la marina è molto più forte di come magari si è abituata a pensarla eh quindi questa è la parte positiva di Long Ring Long Land però nonostante ad Amazon Lily non ci sia la ciurma ci sono dei temi perlomeno no qua non ci sono cioè in Long Ring Long Land non ci sono dei temi è quello il discorso ce ne sono ma sono pochissimi ad Amazon Lily invece c'è tutto quel discorso della schiavitù che è legato alle tre sorelle che si vedono qui c'è il fatto che comunque le Amazoni non amino gli uomini nel senso che non vogliono gli uomini lì c'è il fatto che Luffy scopre di suo fratello quindi anche qui risicata come vittoria ma Amazon Lily vince più che per meriti per demeriti di Long Ring Long Land ok perdonatemi ma è così oh allora Thriller Bark e Punk Hazard allora io non voglio sembrare il classico vecchio rompipalle anche perché non sono vecchio però sapete no i classici fan di lunga data del dei franchise che dicono no ma una volta era meglio non lo voglio fare però però secondo me cioè qua non c'è paragone secondo me Thriller Bark è una saga più bella allora le cose positive di Thriller Bark le ho detto prima parliamo un po' di Punk Hazard secondo me le saghe di One Piece spesso vengono carriate dall'obiettivo che si vuole raggiungere quindi da chi vuoi salvare per dire no e spesso e volentieri una saga viene trascinata proprio da quanto è sentito lo scontro l'odio che Oda riesce a creare verso il villain per un manga come questo in cui il protagonista non è solo un pirata ma è un salvatore è un liberatore di fatto è importante dare delle trame in cui effettivamente ci sia del grande pathos no a Dres Rosa scusatemi a Punk Hazard non c'è non c'è più di tanto perché Cesar è una merda per carità fa esperimenti sui bambini però a Punk Hazard si inizia a cucire questo pathos che poi tu riversi in realtà a Dres Rosa più che a Punk Hazard e quindi Punk Hazard non è una di quelle saghe che ti ricordi secondo me è estremamente godibile però in questo caso la mettiamo in confronto con una saga che ha dei grandissimi elementi a suo favore che ho elencato prima ci sono dei difetti che voglio elencare dopo e li elenco dopo proprio perché Thriller Bark almeno per il momento va assolutamente avanti va assolutamente avanti ok allora Skypiea contro Dres Rosa anche qui non voglio sembrare un rompipalle però partiamo dalle cose positive di Dres Rosa ok come dicevo prima le cose grandi cose positive di Dres Rosa sono rinchiuse in questi due riquadri no perché per me il flashback di Lowe e io prendo sia la sua parte da bambino che la sua parte con Corazon è il flashback più sottovalutato poi non è il migliore ok però è il più sottovalutato di One Piece io poi amo le storie in cui c'è fatta che aggiusto il green screen ok in cui c'è un un mentore che aiuta un ragazzo più giovane a farsi strada a livello filosofico per sopravvivere per tutte queste cose qua io amo quella tipologia di storie assolutamente quindi per me questo flashback lì compra mi compra un po' perché da una parte effettivamente penso a Dres Rosa dall'altra Sabo non mi fa impazzire ecco forse se se fossi una a cui piace il personaggio di Sabo sta saga vincerebbe a mani basse Sabo non mi fa impazzire per carità di Dio mi piace il concetto del torneo ma anche lì torneo fino a un certo punto perché poi Luffy è troppo più forte di tutti e anche e anche Sabo tra l'altro quindi anche lì non è una roba che che impazzisco nel nel vederlo e Doflamingo sicuramente un gran bel villain ma secondo me si poteva fare meglio con Doflamingo c'è per carità storia già rivista e quello l'abbiamo già letto però forse anche il fatto che era un membro della flotta dei sette e noi arriviamo a Dres Rosa abituati ad aver affrontato molti membri della flotta dei sette anzi ormai il livello si era già alzato però per carità Doflamingo lo vuoi affrontare assolutamente nonostante per me Dres Rosa sia una buona saga del post timeskip per me Skypiea rappresenta una parte di One Piece in toto ovvero la parte dedicata all'avventura al voler viaggiare al voler scoprire poi il fatto che ci siano queste popolazioni anche qui da scoprire questi misteri anche qui la parte dei misteri è innegabile a me piace ragazzi cosa vi devo dire c'è un canale dedicato sarei folle a dirvi che non è vero quindi ragazzi a me Skypiea piace piace più di Dres Rosa anche questo un po' risicata come come vittoria però Skypiea per me va avanti per me va assolutamente avanti anche Skypiea per me ha un difetto ma ne parliamo più più tardi ora Orange Town contro Little Garden sto cavolo di torneo mi sta accumulando delle saghe non dico scarse ma più leggere con altre saghe leggere e poi fa il contrario quindi le saghe belle fighe insieme a delle altre saghe belle fighe vabbè comunque Little Garden e Orange Town non sono due di quelle saghe che ti ricordi per sempre nella tua vita chiaramente Orange Town è molto più semplice perché è nella prima parte di One Piece che è una parte estremamente più semplice poi semplice non vuol dire che sia peggio non vuol dire che sia meglio però ci sono meno cose effettivamente si conosce Nami c'è quel bel flashback sul cagnolino che conosciamo vediamo Buggy che poi tutti ameranno però Little Garden si porta dietro quella parte no che citavo prima di Skypiea quindi la parte dell'avventura poi in ogni franchise avrete notato c'è il luogo in cui ci sono i dinosauri e in One Piece è Little Garden si fa la conoscenza dei giganti conosciamo alcuni membri della Baroque Works quindi anche qui a fatica però Little Garden vince contro Orange Town ok anche qui spero che siamo tutti d'accordo ora io non ci credo ma sapete perché non ci credo perché Hulk Hick Island è la seconda volta che finisce in una saga che non è una saga ragazzi miei ragazzi miei allora io non sono un amante di Hulk Hick Island l'ho detto prima per me è la saga peggiore ragazzi però Zou Zou non è non è da considerarsi una saga Zou non è da considerarsi veramente una saga perché perché a Zou per carità conosciamo i Mink e ci affezioniamo a loro c'è questa scena incredibile e mi viene da dire c'è solo questa scena incredibile in cui vediamo la la lealtà no dei Mink che hanno protetto Raizo a costo di venire feriti meno mati nel caso dei due lì davanti quindi tantissima roba questa scena però non c'è un villain è uno spiegone ecco questa saga è veramente uno spiegone questa saga è un po' un promontori gemelli mi viene da dire quindi poi i villain che vengono scoperti ecco poi tra l'altro qua ci sono lo stesso difetto cioè questa saga queste due saghe si portano dietro lo stesso difetto ovvero il fatto che Sanji è un Vinsmok ecco qua siamo arrivati al punto lo volevo dire visto che troviamo queste due una dopo l'altra diciamo diciamo definitivamente qual è per me il problema è che Sanji è un Vinsmok ora ci sta che a Sanji vuoi donare un power up incredibile che poi quello che sblocca Wano quindi questo esoscheletro assurdo in realtà poi secondo me Oda veramente gli voleva dare l'armatura però poi si è reso conto che a livello di merchandise non funzionava e quindi hanno deciso ok no stessi effetti dell'armatura ma senza l'armatura anche qui però dicono tu vuoi rendere Sanji appartenente a una famiglia importante lo capisco però non renderlo di una famiglia importante per il mondo intero perché noi arriviamo a Olkek Island che comunque tutti hanno visto Sanji tutti l'hanno visto con sto sovracciglio anche altri personaggi come per esempio X-Drake che conosce i Germa perché viene dal mare del nord conosce anche la tuta la Stealth Black e quindi magari il sopracciglio lo poteva riconoscere per dire potevi scegliere una famiglia un po' meno famosa magari un po' più nascosta agli occhi della gente e via quindi a me il discorso Vince Mock non mi ha mai fatto impazzire però almeno Olkek Island effettivamente introduce diverse cose ci fa vedere un'imperatrice ci sono molti personaggi quindi Olkek Island passa il turno passa veramente il turno qua lo scontro è veramente difficile e infatti sta classifica la detesto perché ha veramente accomunato le grandi saghe con le grandi saghe e le saghe un po' più con le altre saghe un po' più qua abbiamo due grandissime saghe due saghe caratterizzate dai combattimenti e siamo in uno scene quindi i combattimenti ci devono essere e anzi i combattimenti sottolineano per me l'emotività è vero qua c'è molta emotività perché c'è la morte di Ace c'è la morte di Barba Bianca conosciamo meglio Barba Bianca e via dicendo ma qua c'è la ciurma la ciurma che c'ha i suoi scontri la ciurma che si deve ricompattare perché c'è Usopp che è uscito poi è entrato all'insaputa di Luffy che non si rende conto che è Sogeking poi rientra è bellissima quella parte lì c'è la sostituzione della nave bellissima quella parte lì io adoro sia la parte del funerale della Mary che il vedere la Sunny quindi l'introduzione della Sunny qui non c'è la ciurma combattimenti fighi certo però poi se ci pensate qua non abbiamo qua è tutto un casino questa è una battle royale qua invece combattimenti 1v1 li abbiamo con i classici power up quindi questo è veramente un classicone da shonen sta saga però anche per il pathos che mi tiro fuori per me passa il turno ragazzi per me passa il turno assolutamente poi abbiamo Alabasta e Impel Down io credo che Impel Down allora se io conto tutte le saghe del dopo Arcipelago Sabaudi e pre Fishman Island forse Impel Down è la mia preferita perché mi piace un sacco l'ambientazione e i personaggi che vengono reintrodotti in modo intelligente quindi non che tornano a caso no sono in una prigione Luffy entra in prigione e li rincontra tutti fine per me poteva anche incontrare di nuovo Arlo vi dico la verità però poi ovviamente Oda magari ha altri piani o ci farà vedere scopriremo che l'hai stato giustizzato non lo sappiamo però mi è piaciuto come come tema ho amato Magellan come personaggio coi sui poteri però c'è il discorso della ciurma c'è il discorso di che cos'è per me One Piece e e questa è una volata in una prigione questo invece è un gruppo di pirati che libera una nazione per me la basta è molto meglio per me la basta è veramente molto meglio e lo dico un po' soffrendo perché Impel Down secondo me è super sottovalutata e non far passare Impel Down ma Hulk Hick Island mi urta tanto però è così allora questa che accoppiata ragazzi questa è veramente difficile in realtà è difficile spiegarvela perché io so già cosa vado a selezionare io lo so già ragazzi io lo so già hardcore non si comanda Wano bellissima lunghissima ci affezioniamo ne abbiamo parlato insieme quindi sono legato sentimentalmente se parliamo di sentimenti e in One Piece si deve parlare di sentimenti cioè per me ragazzi Arlon Park è il primo amore praticamente cioè capite per me Arlon Park è bella compatta come saga però in tutto quello che è Arlon Park c'hai tutto tutto quello che deve avere One Piece i compagni di ciurma che entrano perché poi alla fine di Arlon Park c'hai l'entrata di Nami vera e propria vera il villain che ha schiavizzato tra virgolette tutta la popolazione c'è Arlong ci sono i Mugiwara che liberano la popolazione ci sono i Mugiwara e ci sono che hanno ognuno di loro un ruolo diverso ma collaborando i vari scontri in singolo anche Usopp ce l'ha per metterci dentro tutti i sogni perché si parla dei sogni del sogno di Nami questa scena qua rappresenta rappresenta quello che per me è la ciurma quello che per me è la ciurma per Luffy e quindi nonostante in Wano Wano sia una bella saga secondo me sottovalutatissima Arlon Park vince possiamo dirlo? odiatemi insultatemi va benissimo per me Arlon Park vince e qua iniziamo effettivamente a arrivare qua siamo siamo cos'è i quarti di finale sono credo allora Thriller Park Ennis Lobby per certi versi no niente per certi versi niente stavo per dire certi versi sono simili non è vero l'unica cosa simile è la presenza di Frankie nella fine allora Thriller Park c'è da dire che è una di quelle saghe anzi uno di quei archi narrativi rari perché perché è un arco narrativo che ha solo un'isola di mezzo averti notato sta roba solitamente gli archi narrativi di One Piece hanno che ne so pensiamo ad Alla Basta ci sono i Promontori Gemelli Whiskey Peak Little Garden Drama Island e poi Alla Basta quindi tu arrivi alla saga di Alla Basta che sei bello carico no? di emozioni di un gran bagaglio di cose già viste contro quel villain lì ma anche questa anche Water 7 e Any's Lobby che sono stati messi insieme c'è Water 7 c'è Any's Lobby e un po' io questa su questo discorso qua che riguarda Robin in realtà come detto ce lo portiamo avanti da da Alla Basta in realtà Thriller Park no e quindi c'è questa pecca qua poi c'è dei grandissimi punti a favore quindi il discorso Kuma e tutte queste cose qui c'è una grande pecca che mi fa scegliere Water 7 rispetto a Any's Lobby chiaramente c'è da mettere scusami Water 7 rispetto a Thriller Bark chiaramente c'è da mettere da questa parte quindi dalla parte di Water 7 tutti i suoi pregi di cui abbiamo già parlato nel caso di Thriller Bark c'è un difetto Gecko Moria non mi piace come Villay c'è questa cosa che lui non gliene frega nulla ma è uno che è uno che ha perso il suo sogno e in One Piece uno che ha perso il sogno è una nullità è un nullo è un niente quindi Gecko Moria per me non può neanche presenziare nei grandi Villain spesso e volentieri i Villain come detto portano avanti la saga Luci per me è meglio per me Luci è meglio c'è la scoperta dei Gear c'è almeno una parte emotiva molto forte molto più a Any's Lobby che a Thriller Bark quindi sicuramente io vado a scegliere Any's Lobby eh sì ragazzi eh sì ancora allora allora qua io non ci posso credere io non ci posso credere vabbè adesso abbiamo due due saghe su cui si può discutere io non ci posso credere che Hulk e Kailant finisce contro le saghe non saghe già quattro volte cosa è successo vabbè comunque Amazon Lily e Hulk e Kailant abbiamo parlato di di entrambe in in malo modo per entrambe le saghe e io mi vedo costreddo io mi vedo costreddo a far passare Hulk e Kailant ma proprio perché Amazon Lily è una saga veramente di passaggio che c'ha un bellissimo tema bellissimo bellissimo nel senso che è bello leggerlo come lo vuole interpretare Oda quindi che la schiavi tu ovviamente però poi c'ha solo quello Hulk e Kailant c'ha dei mega difetti però non ne parlo ancora perché perché ne parliamo dopo purtroppo è così però vedi poi mi accoppia queste cose eh eh mi accoppia queste due saghe che sono incredibili entrambe allora per me eh io ragazzi ve l'ho detto eh Scapea è bellissima Scapea ehm Scapea è l'avventura scopri cose nuove i misteri bellissimi misteri di One Piece ehm è una popolazione sotto scacco da tenuta sotto scacco da questo dio no con questo frutto hm poi lo scontro però è anche un po' ridicolo hm per fortuna che Oda si inventa quella roba del del forcone d'oro che rende un po' lo scontro un po' più interessante per il resto insomma hm eh lo scontro può ecco secondo me quello un po' la pecca no di di Skypiea che rimane una bellissima saga l'avventura e questo discorso che sto facendo a 5 minuti sembra un po' quando vuoi sto tipo dicendo sai quando l'amica simpatica no quindi cerchi delle giustificazioni però per me Arlong Park è One Piece è One Piece compresso in non così tanti capitoli messo lì che ti fa innamorare quindi con tutto il rispetto di Skypiea e di chi ama Skypiea e del fatto che molta gente ora si sta entrando in fissa con sta saga perché molte cose tornano da one in poi per me passa Arlong Park per me passa Arlong Park e poi abbiamo Little Garden contro Alabasta bene allora per quanto riguarda questa saga qui queste due saghe qua in realtà la scelta è abbastanza semplice perché Alabasta è una bella saga anche per colpa di Little Garden quindi Alabasta vince anche perché ha la spinta di tutte le altre saghe sotto ok e quindi Alabasta è indiscutibilmente più bella come saga rispetto Little Garden non per i demeriti ma proprio perché è è la parte finale di quell'arco narrativo lì stesso arco narrativo uno è una parte finale l'altro invece è una saga di transizione se così dobbiamo dire anche se non è assolutamente di transizione perché comunque è importante di un arco narrativo dello stesso arco quindi Alabasta passa passa il turno e adesso abbiamo già abbiamo già uno scontrone perché per me queste due saghe sono entrambe One Piece ve l'ho detto già un paio di volte sono entrambe cioè se se qualcuno mi dovesse chiedere Marra io non ho mai letto One Piece so che tu ne parli di lavoro bene spiegami che cos'è allora io ti dovrei donare una di queste due saghe anche senza aver letto il resto però proprio per questo proprio per questo Arlong Park anche se tu non leggi il resto ma reggi magari insomma Nami che abbandona la ciurma e basta è impossibile non innamorarsi cioè per me è impossibile non innamorarsi di One Piece ad Arlong Park è impossibile per me Alabasta è bella spinta da anche le altre saghe delle altre isole che abbiamo visto prima quindi per carità di Dio Alabasta bellissima assolutamente però però ragazzi al cuore non si comanda l'abbiamo detto prima per me per me Arlong Park è un simbolo per me Arlong Park sono 1129 1130 capitoli a livello di concetti tutti impacchettati in un file zip di pochi di pochi capitoli e quindi per me passa il turno Arlong Park passa il turno Arlong Park e qua adesso il vero mistero è come ha fatto All Cake Island ad arrivare fino qui e mo mi sbizzarrisco perché io volevo parlare di Sasaga dall'inizio poi alla fine è arrivata fino qua e ce la siamo portata va bene questo è la dura legge di questi tornei allora All Cake Island è lunghissima per me All Cake Island è veramente la saga peggiore se noi calcoliamo le saghe come fatte e finite quindi col villain con l'ambientazione con i temi eccetera quindi togliendo per esempio Amazon Lee togliendo Zoo tutte quelle che ha incontrato praticamente All Cake Island ecco se noi togliamo quelle e lasciamo Dressrosa lasciamo Punk Hazard lasciamo Ennis Lobby lasciamo Alabasta ma anche Little Garden lasciamo Drama e via dicendo All Cake Island è la più noiosa io l'ho trovata veramente noiosa io non sono un amante di Big Mom di Big Mom io amavo il frutto del diavolo quello sì non mi piace questo personale non mi piace Big Mom mi sa il capitano mi sembra più mi sembra più Katakuri che Big Mom però per un'imperatrice io avrei voluto vedere più carisma poi come hai detto anche prima ve l'ho anticipato a me il discorso Germa 66 non mi è piaciuto Capone per me è il meno interessante è il meno interessante della Worst Generation anche lì non lo so Jimbe che si rivede ah ma quindi però c'è Jimbe che entra in ciurma sì per la quinta volta perché Jimbe già doveva entrare in ciurma a Impel Down e poi doveva entrare in ciurma a Marineford e poi nel post guerra e poi a Fishman Island e poi a Hawkeye Island e poi però entra neanche Hawkeye Island entra a Wano che cavolo quindi insomma poi anche lì il villain non è neanche Big Mom perché poi Big Mom ce la portiamo a Wano giustamente Wano è anche bella perché c'è Big Mom lì ma è uno dei suoi figli tra l'altro quindi per tutti questi motivi e anche l'ambientazione che io non ho mai amato l'ho trovata interessante ma tutta una saga insomma non l'ho mai amata e poi ragazzi era veramente veramente lenta cioè adesso parlare della lentezza di una saga è difficile perché comunque tu le saghe dopo anni quando te le ricordi ricordi i punti salienti no? però io mi ricordo quanto non ce la facevo più cioè Hawkeye Island era veramente una saga lenta forse la più lenta se parliamo di One Piece e quindi vabbè qua stiamo parlando di Cristiano Ronaldo contro contro non lo so ditemelo voi perché per me Water 7 e Nils Lobby va avanti allora il torneo che ha montato il computer ha fatto cagare però effettivamente come prima dicevo del di questo paragone calcistico per me qua davanti ci abbiamo Messi e Ronaldo effettivamente perché per me queste qua sono le due saghe migliori sono le due saghe migliori in assoluto di One Piece assolutamente senza ombra di dubbio e sto facendo complimenti perché sto pensando a cosa dire di queste due saghe abbiamo già detto tutto in realtà dei lati positivi di ognuna di queste saghe sono molto simili sotto certi punti di vista anzi sono uguali allora che ci penso perché se noi mettiamo a confronto queste due sarebbe come mettere a confronto un po' drestrosa e e e alla basta sotto certi punti di vista perché Nami e Robin hanno delle grandi caratteristiche che la comunano che non è solo essere comunque un le uniche donne della ciurma ma anche il come entrano ovvero il fatto che poi escono e i Mugiwara devono liberarle in qualche modo devono vendicarle come volete voi no quindi quindi è così quindi è così e e per me queste sono due saghe simili sotto quei punti di vista lì però allora se dovessi fare proprio un discorso di di quanto Oda ha imparato a scrivere e a disegnare è ovvio che più si va avanti con le saghe e più Oda è un esperto quindi una parte di me dice Marra è più completa la saga di Ennis Lobby assolutamente ma io seguo il mio cuore e dico Arlong Park per me Arlong Park è One Piece per me poi siete liberi di ammazzarmi sotto nei commenti ma stiamo parlando veramente di due saghe che vanno se fosse una tier list sarebbe la tier Z insieme cioè proprio assolutamente di Cortomuso per me Arlong Park ragazzi è la saga migliore ho vinto degli XP ok non so come funziona questo sito comunque ragazzi io spero spero di non essere massacrato in questo video primo primo tipo di video fatto così spero vi sia piaciuto vedremo se andare avanti con questo format in realtà mi sono divertito a farlo non ho più voce e fatemi sapere cosa ne pensate chiaramente come vi dicevo vi ho detto già dieci volte per me One Piece è molto sentimento quindi proprio per questo molti di voi potranno anche non essere d'accordo con questa scelta ma fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate scrivete il vostro commento non vi scannate neanche tra di voi nei commenti e noi ci vediamo tecnicamente già domani col commento al capitolo credo proprio di sì quindi ci vediamo ciao a tutti ragazzi